Entro maggio saranno più di 2.000 le prestazioni erogate. Dopo un'attesa lunga sei anni, il nuovo mammografo installato nel distretto sanitario pesarese di Viananterlo scorso 12 marzo vi ha già spedito per ridurre il gap sul perdurante problema delle liste d'attesa. Lo fa con prestazioni d'eccellenza fornite da un macchinario all'avanguardia che questa mattina ha avuto il suo taglio del nastro istituzionale alla presenza del personale medico dell'azienda sanitaria territoriale coinvolto nell'erogazione delle prestazioni e degli esponenti di Regione Marche e Comune di Pesaro che hanno spinto verso questo traguardo. Questo macchinario è il top gamme delle mammografi può servire sia per fare lo screening che per fare le diagnosi cliniche ha una tempistica di esecuzione dell'esame molto più rapida e ha una precisione nel momento in cui individua una lesione di focalizzare il punto in cui c'è questa lesione per fare un discernimento se si tratta di una lesione benigna di un artefatto o di una lesione maligna quindi a livello di risposta nell'esame mammografico è molto più preciso e puntuale rispetto al mammografo che c'era precedentemente e quindi chiaramente ci permette sia di fare diagnosi precoce nell'ambito dello screening che accertamenti diagnostici nel caso in cui la donna ha già conoscenza di un nodulo. Prestazioni d'eccellenza abbinate ad una rapidità d'esecuzione funzionale a ridurre le liste d'attesa. Chiaramente essendo più rapidi ci permette di utilizzare un tempo più breve dei 15, 20, 25 minuti di un altro esame quindi se in una giornata riuscivamo a fare un tot numero di donne in questo caso aumenterà il numero delle prestazioni erogate giornalmente e quindi potremo essere in grado di ridurre la tempistica sui tempi d'attesa per questo tipo di esame. Si tratta del primo dispositivo per la diagnostica senologica in funzione acquistato nella regione Marche con i fondi del PNRR un investimento di oltre 250 mila euro. Stiamo investendo tantissime, è una scelta condivisa da tutta la giunta regionale sul pesarese per evitare e per limitare l'afflusso verso altre regioni e soprattutto per cercare di limitare la mobilità passiva ma garantendo un servizio importante. Questo è un segnale che io voglio sottolineare per la delicatezza della condizione dei servizi sanitari nel pesarese ma soprattutto per la carenza di fondi che il servizio sanitario deve affrontare. Spesso si tralascia il fatto che l'invecchiamento della popolazione fa aumentare notevolmente la domanda di servizi sanitari e con un sistema italiano di fiscalità che è arrivato al massimo per le persone fisiche, per le imprese e un grande debito pubblico si fa sempre più fatica ad aumentare il finanziamento quindi per fortuna quest'anno il governo lo ha aumentato di 3 miliardi per tutto il nostro paese quindi c'è un segnale positivo ma chiaramente deve anche contare la riorganizzazione, l'efficientamento del sistema e soprattutto anche l'appropriatezza delle prestazioni. Un grazie all'assessore Salta Martini e al presidente Acquaroli che hanno deciso di investire 250 mila euro in questo macchinario all'avanguardia di tecnologia avanzatissima per lo screening per le nostre donne quindi veramente un momento di felicità e quindi grazie alla regione Marche continuiamo così è il terzo macchinario che inauguriamo nel pochissimo tempo altri macchinari verranno inaugurati a breve questa è la dimostrazione dell'attenzione da parte della regione Marche della giunta Acquaroli, dell'assessore Salta Martini e anche dell'intervento e della spinta anche dei consiglieri regionali del territorio e dei consiglieri comunali anche di Pesor che hanno spinto fortemente per questo macchinario.